imbracciamo la chitarra e parliamo chiaro questo è il titolo di questa seconda lezione ma si sarebbe anche potuta intitolare nomenclatura e postura ma mi sembrava un pochino troppo formale e dobbiamo vedere come tenere in mano la chitarra quale postura assumere come chiamare le dita e le mani che dovranno approcciare allo strumento e dobbiamo capire come chiamare le note quando sono note quando sono accordi questo non va bene anche questo non va bene questo nemmeno figuriamoci questo questa postura potrebbe essere abbastanza corretta come vedi in questo caso ho accavallato le gambe ma non è corretto fino in fondo perché in questo modo la gamba sottostante e preme con la parte del ginocchio sotto all'altra gamba e tende un po a fermare la circolazione nulla di grave però come dicono i bambini a volte vengono un po le formichine nelle gambe e soprattutto andiamo un pochino a disassare il nostro corpo sembra un problema minimo e io però dopo tanti tanti anni mano mano che gli anni vanno avanti mi sono accorto che può creare un problema questo aggeggio che si chiama poggia piedi in questo caso è un mio reperto storico cioè il mio primo poggia piedi intanto si si vede la sua età così come come ce l'ho io e che cosa serve ci semplifica la vita poi invece che utilizzare questo per metterci due libri due mattoni e qualsiasi cosa per sollevare il piede stabilisci un'altezza che vada bene per la tua fisicità e per la sedia sulla quale sei seduto lo appoggi a terra e trovi un angolo della gamba che sia circa 90 gradi può anche essere qualcosa in più proprio perché non debba scivolare se 90 gradi quindi diciamo in questo modo come sarebbe se io tenessi il piede in punta e la chitarra può muoversi tranquillamente aumento leggermente questo angolo quindi la chitarra sta stabilmente in questa posizione anche con la chitarra elettrica si può utilizzare il poggia piedi infatti la chitarra in questo modo sta perfettamente al suo posto questa invece è la posizione classica della chitarra classica la posizione tradizionale cioè come vedi ho utilizzato l'altra gamba sul poggia piedi quindi un pochino più alta la chitarra classica è appoggiata qui si appoggia per la parte di sotto all'altra coscia la paletta va più o meno all'altezza della spalla ed ecco che noi la possiamo imbracciare se abbiamo detto che tenendo il piede a terra non hai abbastanza angolo per tenere la chitarra puoi usare il poggia piede eccolo qua ok se non hai il poggia piede puoi usare questo trucchetto piuttosto che accavallare la gamba fai questa cosa non è il massimo ma è meglio che niente in qualsiasi modo tu decida di tenere la gamba sollevata comunque puoi tenere anche la chitarra classica in questo modo anche perché come ho detto all'inizio questo manuale ti porta ad avvicinarti alla chitarra è molto propedeutico quindi potrebbe capitare che tu abbia in mano una chitarra classica ma che tu voglia suonare la chitarra acustica bene questo manuale ti darà comunque una base comune che ti porterà a suonare lo strumento che tu preferisci useremo prevalentemente la chitarra acustica perché rispetto alla chitarra classica ha i dot i dot impareremo a conoscerli la lezione 21 ma sono quei pallini sulla tastiera che quindi ti saranno così da bussola guardando la tastiera della chitarra impariamo a dare un nome alle mani e a riconoscere il ciascun dito di ciascuna mano allora chiamiamo la mano che sta sulla tastiera la mano che preme ok quindi anche se uno studente mancino questa sarà sempre la mano che preme quella sulla tastiera la mano che invece andrà a pizzicare in un arpeggio le corde o usando il plettro farà uno strumming o una scala la chiameremo la mano che suona ora andiamo a vedere come chiamare e riconoscere le singole dita come vedi sul manuale siamo sulla mano che preme e abbiamo iniziando da qui il pollice che viene chiamato t perché dall'inglese viene chiamato thumb ok poi iniziamo dall'indice l'indice perde il suo nome e si chiama 1 invece il dito medio si chiama 2 l'anulare si chiama 3 e il mignoro si chiama 4 dobbiamo abituarci a tenere ciascun dito nello spazio di un tasto quindi 1 corrisponderà al tasto 1 2 corrisponderà al tasto 2 3 corrisponderà al tasto 3 4 corrisponderà al tasto 4 per quanto riguarda la mano che suona il pollice è indicato con p ok quindi ricordati la mano che preme ha il pollice che si chiama t da thumb mentre nella mano che suona se sei destrimano sarà la mano destra questo è p come pollice i come indice m come medio a come anulare il mignoro di norma non si usa la nomenclatura delle note direi questa è facile beh invece non è così semplice perché è facile finché noi ci ricordiamo che le note sono dora e mi fa sola si ma c'è un altro modo di chiamarle che con delle sigle con delle singole lettere che vengono chiamate la nomenclatura internazionale nomenclatura anglosassone poco e ci importa in questa fase sapere da dove vengano comunque questa è la cosa più importante forse da sapere per condividere accordi o cose del genere per un chitarrista quindi do re mi fa sola si ok lo sappiamo praticamente tutti ma quando lo andiamo a vedere gli accordi in questa nomenclatura internazionale ci sono delle lettere queste lettere sono c d e f g a b che sembra poco logico se visto in questo ordine partendo da do ma se partiamo dalla diventa a b c d e f g quindi a la b si c do di re e mi f fa qui si assomigliano g sol quindi dobbiamo capire quando usare la sigla o quando usare il nome della nota verbalmente noi italiani siamo abituati ad utilizzare i nostri nomi do re mi fa sola si e così io continuerò a fare quindi mi sentirai sempre dire do re mi fa sola si sia che si tratti di accordi sia che si tratti di note note singole e invece quando lo scrivo sul manuale se hai il manuale a meno che tu non abbia scelto di seguire soltanto queste lezioni sul web quando scrivo di una nota singola scriverò mi mi questa è una nota singola mi anche questo mi ok ma se devo fare un accordo in forma scritta sarà e min e perché è la sigla corrispondente al mi ti ricordi che abbiamo detto la si do re mi la si do re mi a b c d e quindi e min è il nome di questo accordo che scritto sarà scritto e min ma a livello verbale dirò mi minore e questo mi minore è proprio il primo accordo che imparerai alla lezione 5 prima dobbiamo capire e imparare come accordare la chitarra te lo spiegherò nella prossima lezione 3 e invece nella lezione 4 come tenere il plettro